Il reddito medio delle imprese agricole si è ridotto di oltre 60%, un dato preoccupante anche in questa provincia. Il mondo agricolo si mobilita al grido di non toglieteci il futuro e alla manifestazione del prossimo 26 di ottobre a Roma ci sarà anche Arezzo. La grande mobilitazione promossa da CIA nazionale rimette al centro l'impresa agricola e il suo reddito. Questo l'obiettivo della mobilitazione per tutelare il futuro dei produttori di fronte alle grandi emergenze e alle sfide globali che toccano il settore primario. I prezzi sono alle stelle di CIA e gli agricoltori sono sempre più poveri. È per questo che in tanti, tanti agricoltori, tanti allevatori di questa provincia andranno a Roma il 26 per portare all'attenzione del governo le tante enormi criticità di questo settore e per richiedere che vengano inserite con urgenza nell'agenda politica con la massima priorità. Oltre alla questione prezzi, tra i temi principali, anche quello delle pensioni e di coloro che invece devono accedere al mondo del lavoro per quello che riguarda l'agricoltura, la difficoltà a reperire in mano d'opera è davvero importante. Quindi chiediamo di poter essere messi in contatto, di avere un contatto fra scuole e aziende, di avere una maggiore fruibilità anche al lavoro e soprattutto di riuscire a sfatare il mito che azienda agricola vuol dire lavorare nei campi o lavorare in una stalla. Aziende agricole come la mia o come tante altre in questo momento vogliono dire fare turismo verde, fare esperienze verdi, essere legati al sociale, essere legati alla didattica, essere legati anche a tutta una serie di prodotti che potrebbero permetterci uno di vivere meglio, di stare meglio anche per quanto riguarda l'alimentazione e il vivere. Ecco noi chiediamo almeno l'incremento delle pensioni minimi almeno a 780 euro che è il minimo per essere sopra la soglia della povertà, altrimenti il problema anche della sanità non si risolve se i cittadini non sono in grado magari di pagarsi neanche un'analisi o una prestazione di qualsiasi tipo.